Il virus sta di nuovo avanzando. In questi giorni chiedo a tutti di rimanere a casa ed uscire solo per lo stretto necessario. Da un comune all'altro della provincia di Salerno, questo che è l'appello lanciato dal sindaco di Rocca Piemonte, Carmine Pagano, potrebbe essere ripetuto all'unanimità quasi in tutti i centri dell'intero territorio salernitano. Nell'Agronocerino in particolare, oltre che a Rocca Piemonte, dove sono stati registrati nelle ultime ore 48 cittadini positivi, si registra all'SOS anche del primo cittadino di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cofano. 120 nuovi casi positivi a Nocera Superiore e tanti in fila davanti al drive-in per eseguire tamponi utili ad effettuare il test molecolare. Anche a Salerno, nel comune capoluogo, la sede dell'USCA ha fatto registrare almeno un chilometro di fila questa mattina di persone in attesa di effettuare il tampone molecolare. Si tratta di persone che hanno avuto contatti con positivi e che devono certificare con il tampone molecolare di essere o meno contagiati dal coronavirus. La fila più dei dati segnalati dal bollettino quotidiano della protezione civile, che è falsato dai giorni festivi ieri comunque ha registrato un incremento all'8% del tasso di incidenza, fa crescere l'allarme e testimonia l'incremento dei contagi. A San Valentino Torio il sindaco Michele Stianesi ha chiesto di indossare la mascherina in tutti gli spazi durante l'attività lavorativa a prescindere dalla distanza rispetto ad altre persone. A Cetara il sindaco della Monica torna a registrare positivi ha predisposto una doppia seduta vaccinale. A Baronissi il sindaco Gianfranco Valiante, anche lui contagiato dal covid, ha predisposto con l'ASL una seduta dalle 14 nel lab di Via Ferrovia riservato ai bimbi dai 5 ai 11 anni. Valiante è stato tra i primi a sospendere anche lo svolgimento di eventi al chiuso. Oggi e domani a Baronissi dalle 17 l'ab di Via Ferrovia sarà aperto a tutti senza prenotazioni.